cose e cominciamo a parlare di challenges e il direttore Pui è arrivato al momento giusto. Queste cose che vedete scritte qua sono le priorità politiche del trasporto italiano. Sono un sottinsieme delle priorità politiche per il trasporto italiano. Quali sono? Sono quelle che hanno esigenza di innovazione. Sono i temi sui quali la direzione generale rappresentata da Dottor Pui sta promuovendo da un po' progetti, progetti di cui si è parlato anche oggi. Facciamone rapidamente, parliamone di una, la digitalizzazione e in particolare l'amministrazione digitale è una priorità europea, non solo, è una priorità mondiale. Nel 2019 le formalità arrivo partenza nave, questo vuol dire delle cose che adesso non approfondiamo, a voi note, saranno obbligatorie in tutto il mondo. L'innovazione, la parte ambientale se ne è parlato, volevo solo sottolineare una cosa che Claudio tu oggi non hai sottolineato. Nel 2020 non forse nel Mediterraneo, sicuramente nel Mediterraneo. Nel 2020 nel Mediterraneo, così come in tutto il resto delle acque di interesse europeo, la fascia rossa che è lì è 0,5% il massimo contenuto di zolfo nel combustibile marino. Per inciso questo vuol dire che avremo un Mediterraneo e due velocità, lo gestiremo. Nel 2025 in tutto il mondo. Quindi Gain, che è stato citato, ma lo dico soltanto così a titolo esempio, non è uno dei progetti del Ministero italiano, è il progetto italiano su il gas. E andrà avanti. Abbiamo alcune chance, qua uso delle pubblicità che sono state utilizzate un tempo, simpatiche. Comunicazione, noi abbiamo bisogno di un sacco di comunicazione. Riuscite a immaginare cosa sarebbe riuscito a fare Gandhi se avesse avuto i canali di comunicazione che abbiamo noi? Cose enormi. Beh, quei canali, e Bridget che è seduta lì, è una dei massimi esperti mondiali, e quei canali ce li abbiamo. Noi oggi siamo in grado di avere la nave connessa in tutto il mondo, 24 ore su 24. Quindi riusciremo, possiamo fare cose grandissime. È già stato detto molto bene dall'ingegner Masi, l'aspetto delle risorse umane, ma in the gap, noi andiamo avanti molto con le tecnologie, dobbiamo essere equalmente avanzati sulle risorse umane. E anche questo è già stato ben sottolineato, e anche su questo stiamo lavorando molto. Altre opportunità, se ne è parlato, eco-shipping in generale, non solo le navi, anche le navi, tutto il sistema di trasporto e quant'altro. Bene, perché vi dico tutto questo? Perché tutte queste cose sono ampliamente nelle priorità, nelle esigenze di Orizzonte 2020, definite dalla Commissione europea. Quindi le priorità politiche per il trasporto italiano, e non è un caso, e le priorità di innovazione e di ricerca di Orizzonte 2020 e di CEF coincidono, sono complementari. Allora, facciamo un paio di esempi. C'è posto in Orizzonte 2020 anche per i nostri temi? Sì. Per esempio, Blue Growth è un programma che sta per iniziare, che non è un caso, dice che il Mediterraneo è una fonte straordinaria di ricchezza. Anche e soprattutto tenendo conto dei paesi del Nord Africa, e proprio qua a Livorno abbiamo delle belle esperienze in questo senso. Quindi su questo c'è tanto da lavorare, anche per i porti. Un altro esempio, ma se ne possono fare mille, è la strategia adriatico-ionica. E voi mi direte, Livorno non è nell'adriatico? No, ma la strategia adriatico-ionica è un esempio di quello che sarà la strategia mediterranea. Questi sono i pillars della strategia adriatico-ionica. Li leggete, vi ci trovate. Quindi, e mi avvicino abbastanza a concludere. Intanto, cosa facciamo noi e cosa vogliamo fare e cosa vogliamo che sia i nostri lavori in Europa? Allora, per farla breve, Orizzonte 2020, anche questo è già stato un po' detto. Ricerca, quindi risultati sul mercato nel medio-lungo termine, dieci anni. Connecting Europe Facility, risultati sul mercato immediatamente. Sono molti dei progetti di cui abbiamo parlato oggi. Allora, queste due cose devono essere messe sulla stessa agenda strategica. Noi questi due strumenti, Orizzonte e Cefli, dobbiamo usare in maniera intelligente. E quindi dobbiamo creare una sinergia. Lo stiamo dicendo alla Commissione europea, Morsi lo sa, gli è stato detto, lo stiamo facendo, o stiamo cercando di farlo. Il direttore Puglia è una delle persone che ci ha creduto sin dall'inizio. Volevo dirvi un paio di cose veloci, perché questa roba funziona? Sì, funziona. Questi sono esempi di alcuni dei progetti che abbiamo fatto con Livorno. La roba scritta in verde, non perdete tempo a leggere. Sono cose che oggi esistono, sono deployed, come si dice in Europa. Le abbiamo fatte, le abbiamo concepite, esistono. Queste sono le cose che esisteranno tra un po'. Sono risultati che sono andati a finire nei porti, vengono utilizzati dagli armatori, eccetera, eccetera. In questo caso mi sono invitato a fare l'esempio della connettività, della e-administration. Allora, qual è il ruolo dei porti? C'è un ruolo dei porti? Ci sono state diverse domande. È realistico, dicevi Francesco, che i porti siano nelle priorità? Guardate un po' cosa c'è scritto qua. Questa è una frase che ha detto Mitropoulos, ex segretario generale dell'IMO. Ha detto che senza le navi e i porti metà del mondo morirebbe di fame e l'altra metà di freddo. Allora, io non voglio morire di fame e io non voglio morire di freddo. La risposta è ovvia. Senza i porti non si fa trasporto, senza trasporto non si fa economia. Quindi c'è posto per i porti in orizzonte? Sì. È possibile? Sì. È già stato fatto. Come si fa? Domanda pleonastica. Si va e Livorno c'è in certi tavoli, adesso, in modo che le cose che servono vengano fuori sui bandi che ci saranno tra un anno, tra due anni, tra tre anni. Questo lo stiamo facendo, questo l'abbiamo fatto e ci auguriamo di farlo ancora di più. È un piacere farlo con Livorno perché è un sistema molto integrato. Ricordiamoci che tutto questo esercizio lo dobbiamo fare in tutta Italia. Grazie. Grazie.